La decisione di partecipare a questo evento è stata presa perché dopo questo duro periodo che abbiamo passato avevamo voglia di poter rincontrare i nostri clienti, i nostri fornitori ed anche i nostri concorrenti. La città di Milano è la città migliore dove poter organizzare questo tipo di eventi secondo noi. Il format della manifestazione è molto interessante perché a questo genere di eventi non abbiamo mai partecipato con questo format. La location è fantastica, bisogna cercare di capire magari come far affluire un po' più di potenziali di visitatori interessati perché l'afflusso potrebbe essere stato un po' più, diciamo un po' maggiore rispetto a quello che è stato fatto. Comunque i convegni sono stati veramente molto interessanti e affinando qualcosina è sicuramente un format molto interessante.